Per quanto riguarda gli incandidabili, faccio un'altra chiosa a quello che diceva Travaglio, è sicuramente vero, lui ha iniziato il suo intervento dicendo che il problema di Berlusconi è che non dovrebbe possedere delle televisioni, dovrebbe essere incandidabile in quanto possessore di televisione. Io sono contrario, ma se mettiamo a tema la cosa, allora dobbiamo allargare lo spettro degli incandidabili e per esempio secondo me dovrebbero essere incandidabili dei magistrati che hanno indagato su quelli che adesso sono i loro rivali politici. Questo è un paese strano dove un magistrato ha fatto cadere due terzi della classe politica, mi riferisco a Di Pietro, e poi si è sostituito ad essa, un altro magistrato ha fatto cadere un governo, Prodi, e poi si è sostituito in qualche modo nel senso di diventato politico. Adesso siamo in presenza di un magistrato in Groia che è fresco fresco di indagini non solo su Berlusconi, ma anche e soprattutto su Berlusconi si candida contro Berlusconi. Ecco, credo che questo sia un conflitto di interesse che va messo sullo stesso piano di quello Berlusconi. Se Berlusconi non può candidarsi perché possiede giornali, in Groia non può candidarsi perché ha indagato su... Allora facciamo una bella legge che per cinque anni, se uno possiede televisione e deve venderle, poi per cinque anni non può candidarsi, un magistrato per cinque anni dimessosi dalla magistratura, non in aspettativa, si dimette dalla magistratura e poi dopo cinque anni può tornare tranquillamente a candidarsi. Alessandro, una domanda secca. Tu, Cosentino, fossi colui che materialmente stila le liste, Cosentino dell'Utri, Papa, li candideresti? Ma la domanda è malposta, nel senso che esiste sicuramente un problema di impresentabili, quindi di incandidabili, se fossimo in un paese dove ci si può fidare dei giudizi della giustizia, dei verdetti della magistratura. Vi faccio un esempio molto banale, scusate se mi autocito. Io probabilmente, adesso non so dal punto di vista tecnico, non conosco la legislazione, non potrei candidarmi in quanto sono stato condannato con sentenza definitiva al carcere. Ma al di là di quello che possa candidarmi o no, mettiamo che una sentenza definitiva a un giornalista di carcere possa dire no, quello è incandidabile a direttore perché è stato condannato. Bene, magari hanno fatto bene a condannarmi, non lo so, io ritengo di no, ma magari hanno fatto bene. Ma siccome il mio reato è uguale al reato di tanti altri giornalisti che non sono stati condannati e che quindi avrebbero l'agibilità a continuare a fare i direttori, beh, allora io mi porrei il problema di una disuguaglianza di giudizio che può provocare una selezione della classe dei direttori. Allora, le disuguaglianze di giudizio, per cui faccio un esempio, Berlusconi non poteva non sapere cosa faceva Dell'Utri, mentre invece Bersani può non sapere cosa faceva Penati, beh, questo provoca una selezione della classe politica. E quindi, come dire, è molto pericoloso affidare la candidabilità alla magistratura italiana. In altri paesi questo non avviene, e lo sappiamo, perché, mediamente parlando, c'è una magistratura che non desta questo sospetto che non solo è imparziale, ma da anche la sensazione, un arbitro non solo deve essere imparziale, ma deve dare la sensazione di essere imparziale. Ora, quando in Groia si candida contro Berlusconi, è chiaro che la sua imparzialità presente e passata è da mettere in discussione, per cui tutti gli atti fatti da in Groia dal punto di vista giudiziario nell'opinione pubblica possono essere soggetti, magari non è vero, al dubbio che in Groia si era mosso per motivi politici, non per motivi giudiziari. Travaglio, proviamo a fare due passi avanti. So che sono domande un po' complicate, richiederebbero risposte lunghe, ma insomma, la prima è molto strettamente agganciata a quanto diceva Sallusti poco fa. Siamo in una città che ha dato alcuni dei maggiori giuristi di questo secolo, del secolo scorso, ma anche viventi, diciamo, e che ci hanno insegnato che in qualche modo il rapporto fra poteri deve essere molto definito, per cui io ti domanderei, secondo te è normale che si cambi di un magistrato, ora non mi riferisco a una persona specifica, ma facciamo un discorso generale, un magistrato che ha esercitato, sino a pochissime settimane prima, la sua giurisdizione nel collegio in cui si candida, quindi il rapporto fra giustizia e politica in questo Paese, e il secondo, poi proviamo a capire che cosa accadrà il lunedì pomeriggio, subito dopo le elezioni, ovvero sia, oggi, stamattina, vorremmo avere un po' più di chiarezza sull'offerta politica in campo, rispetto a quella che abbiamo avuto negli ultimi vent'anni, se a tuo avviso è cambiato qualcosa, se siamo congelati, se Monti è riuscito a modificare, a tentare di decostruire il quadro, dell'offerta politica, o se sei preoccupato per un Parlamento che sarà instabile e quindi una legislatura che rischia di essere convulsa e breve, quando questo Paese, temo, ha bisogno di stabilità, un'economia che ricomincia a crescere e l'Europa stessa ci chiede stabilità. So che sono tanti temi, insomma proviamoci. Allora, cominciamo dalla faccenda di se è normale o non è normale che si candidino magistrati, ma intanto nei Paesi normali io credo che i diritti civili si tolgono ai pregiudicati, non ai magistrati, siamo l'unico Paese dove si discute se sia il caso di togliere i diritti civili e quindi ai magistrati. Io non mi meraviglio che molti magistrati vogliano andare in politica perché sono vent'anni che la politica, e non solo Berlusconi, anche il centro-sinistra che ha dato un'ottima mano, si dedica pervicacemente, scientificamente, allo sfascio della giustizia. Forse è l'unica grande riforma che sono riusciti a fare in questi vent'anni, sfasciare completamente la giustizia, penale e civile, ma soprattutto penale perché quella civile era già sfasciata di suo. Le leggi che hanno distrutto il processo penale non si contano e sono equamente ripartite fra i governi di centro-destra e di centro-sinistra e se andiamo a vedere di solito sono passate con maggioranze molto più ampie di quella che in quel momento governava, perché c'è un interesse comune della classe dirigente, non solo politica ma anche finanziaria e imprenditoriale, a non avere una giustizia efficiente e uguale per tutti. Quindi io capisco che i magistrati avvertano la frustrazione, che è un po' la stessa frustrazione che avvertiva Falcone, quando non riusciva più a lavorare all'ufficio istruzione e alla procura di Palermo e decise di andare a Roma dentro il ministero per cercare di cambiare le cose. Io credo che Ingroia, così come Piero Grasso, così come altri, io poi non penso che i magistrati siano tutti uguali e forse qualcuno sa che cosa penso di Ingroia e che cosa penso di Piero Grasso, sono due modelli di magistrato molto diversi, ma credo che entrambi abbiano deciso di entrare in politica perché hanno visto con i loro occhi, hanno toccato con mano in questi vent'anni l'insipienza e la mala fede della classe politica ogni volta che mette mano a una legge sulla giustizia. E quindi sperano di poter influenzare la legislazione in questa materia per migliorare le cose. Non credo che le loro forze siano tali da contrastare quelle che invece vanno nella direzione opposta, cioè di proseguire nello sfascio della giustizia penale in Italia. Temo che, soprattutto Piero Grasso, che non è un leader ma che spera di diventare ministro della giustizia, finirà per frustrare le sue aspettative esattamente come ho visto frustrati tanti magistrati che entravano in politica. Gerardo D'Ambrosio, che non è uno di questi casi perché era già in pensione quando si candidò, ha presentato degli splendidi disegni di legge in Parlamento, è stato uno dei pochissimi a votare contro l'indulto, quella vergogna dell'indulto del 2006 e non ha avuto mai la fortuna in due legislature di vedere discutere un suo disegno di legge per cui ha rilasciato un'intervista molto amara, molto significativa secondo me qualche giorno fa, mi pare, al Corriere della Sera dove annunciava che non si sarebbe ricandidato anche per raggiunti di limitità ma soprattutto perché il Parlamento ha detto se vuoi migliorare la giustizia il tuo disegno di legge non viene nemmeno preso in considerazione. Se la vuoi massacrare il tuo disegno di legge passa nel giro di un mese. Il Lodo Alfano è stato approvato tra Consiglio dei Ministri, Camera e Senato in un mese e due giorni altro che lunghezza dell'iter legislativo. Le leggi che sfasciano la giustizia passano in carrozza perché non incontrano alcun ostacolo né al Quirinale, né in Parlamento, né in quella che abbiamo chiamato pietosamente opposizione. Ecco, penso che sia questo il movente. Dopodiché il problema che pone Sallusti non è certamente campato per aria, ci vorrebbe un cuscinetto, sul nostro giornale Padellaro il direttore e molti opinionisti hanno criticato in groia perché è passato troppo poco tempo da quando aveva lasciato il suo ruolo attivo nella magistratura. Bisognerebbe che oltre a parlarne si facesse una legge. Finché non c'è quella legge bisogna seguire le leggi esistenti. Del resto non si può fare una legge per impedire il magistrato e credo che non si possa, perché sarebbe incostituzionale, nemmeno fare una legge che imponga le dimissioni dalla magistratura perché la magistratura è una pubblica funzione. Come si fa a impedire a un pubblico funzionario? Non si sbaglio, ma il CSM non ha previsto però una regola che debbano passare sei mesi, secondo la quale debbano passare sei mesi dalle... Il CSM ha previsto, il CSM purtroppo non può fare le leggi, il CSM può avere dei regolamenti interni in base ai quali bisogna chiedere l'autorizzazione per candidarsi, per essere messi fuori ruolo, per essere messi in congedo, eccetera. è una cosa abbastanza complicata dove addirittura ci sono dei profili di ineleggibilità che però non sono di incandidabilità, quindi il magistrato nella città in cui è esercitato prima di una certa data non è elegibile ma è candidabile. Quindi insomma è chiaro che non è con queste norme pasticciate che si può risolvere un problema del genere. Semmai è il Consiglio Superiore oppure il legislatore che dovrebbe stabilire che un magistrato una volta eletto non può tornare nella stessa città dove esercitava prima ma non è facilissimo mettere dei limiti perché il diritto all'elettorato attivo e passivo è il diritto civile fondamentale per un cittadino, almeno per un cittadino incensurato. Quindi quando si va a toccare quella materia lì si va a toccare una materia sensibile dal punto di vista costituzionale. sta un po' al costume e al buonsenso è chiaro che i partiti non possono dare lezioni agli altri. Noi oggi pubblichiamo sul fatto la notizia che il Partito Democratico ha offerto al procuratore capo di Taranto di candidarsi dove? A Taranto. Ma non erano gli stessi che ieri dicevano che Ingroia non poteva candidarsi a Roma? e adesso voglio candidare a Taranto il procuratore di Taranto che sta facendo l'inchiesta a Taranto sull'Ilva di Taranto e ha appena fatto due conflitti di attribuzioni contro il governo di cui fa parte il PD perché ha fatto tre decreti salva Ilva. Cioè questi votano i decreti salva Ilva per neutralizzare i provvedimenti della magistratura di Taranto e poi vogliono candidare i magistrati di Taranto. Ma dico ma stiamo scherzando. Ecco a Bari c'è un sindaco che ha fatto il pubblico ministero fino al giorno prima e che tra l'altro è pure un buon sindaco Michele Emiliano quindi non c'è nessuno che può dare lezioni a nessuno. Il primo politico italiano che ha cercato di portare al governo immediatamente mentre stava facendo le indagini più delicate d'Italia un magistrato è stato Sidio Berlusconi quando nel 1994 ha offerto il ministero dell'interno a Di Pietro. E' lì che è iniziata la cosa di prendere un magistrato famoso e di sventolarlo come bandiera. Di Pietro gli disse di no e quando si candidò si era dimesso da due anni dalla magistratura quindi poi i casi che vengono fatti sono anche diversi. Ingroia ha indagato su Berlusconi e ha chiesto l'archiviazione non ha mai stabilito che Berlusconi non poteva non sapere quello che faceva Dell'Utri altrimenti insieme a Dell'Utri ci sarebbe anche Berlusconi imputato invece Berlusconi non è mai stato chiesto il rinvio a giudizio da Ingroia nei confronti di Berlusconi e devo dire che se vogliamo una dimostrazione di imparzialità ammesso che l'imparzialità di un magistrato si giudichi dalla varietà dei colori dei suoi imputati beh prendete l'inchiesta sulla trattativa c'è un esponente del centro-sinistra che si chiama Mancino c'è un esponente del centro che si chiama Mannino c'è un esponente del centro-destra che si chiama Dell'Utri c'è un vecchio ministro che si chiama Conso di centro-sinistra ci sono degli ufficiali dei carabinieri ci sono i mafiosi più imparziale di così c'è tutto l'arco costituzionale e infatti chi si è incazzato tutti i politici per quell'inchiesta nessuno escluso persino il capo dello Stato che trescava telefonicamente col suo amico Mancino per deviare il corso di quell'inchiesta quindi non è un'inchiesta su Berlusconi l'inchiesta sulla trattativa è un'inchiesta sull'intero ceto politico ma perché? perché l'ha fatta in groia o perché qualcuno ha trattato con la mafia? l'inchiesta sulla trattativa fra Stato e mafia non nasce perché in groia vuole abbattere il sistema politico nasce perché lo Stato ha trattato con la mafia Marco poi ovviamente se Sallusti vuole tornare su questo punto però facciamo il secondo passo che ti suggerivo l'offerta e l'assetto politico italiano di oggi le differenze col 2008 ma in generale direi col ventennio precedente e soprattutto quello che potrebbe accadere all'indomani delle elezioni politiche di febbraio cioè dato il quadro attuale il quadro attuale che ci sono noi ci possiamo basare soltanto sui sondaggi perché quello quello sono e i sondaggi dicono che c'è un blocco molto avanti rispetto agli altri che è il centro-sinistra formato dall'alleanza fra partito democratico SEL di Vendola e socialisti di un certo Nincini poi c'è il blocco di centro-destra che sarebbe posizionato al secondo posto che è ovviamente il PDL alleato con la Lega e con una decina di liste satellite civetta chiamiamoli come vogliamo poi c'è il terzo blocco che dovrebbe essere non si sa se il Movimento 5 Stelle di Grillo oppure il centro di Monti Casini Fini e altre frattaglie e poi c'è il il quinto blocco che è la lista rivoluzione civile di Ingroia di Pietro De Magistris professori società civile movimenti che è secondo i sondaggi o al 5 o al 6 a seconda delle regioni sono alcune regioni in cui è anche vicino al 10 come la Sicilia e come la Campania e altre regioni dove soprattutto al nord-est dove è molto più basso in una legge elettorale normale ci si attenderebbe che insomma se uno arriva primo governa e ha la maggioranza per quei meccanismi di premio che garantiscono la governabilità noi invece abbiamo una legge elettorale non saprei nemmeno come definirla la chiamiamo Porcellum quindi mi sembra tautologico che calcola il risultato del voto e la sua proiezione in seggi in maniera diversa alla Camera e al Senato quindi mentre alla Camera il primo partito la prima coalizione comunque prende il premio di maggioranza e anche se che ne so c'è al 30% alla Camera ha il 55% dei voti quindi ha quanto gli occorre per governare con un abbondante margine di vantaggio al Senato è tutto rimescolato perché al Senato tutto ciò è calcolato su base regionale quindi uno può prendere molti più voti dell'altro ma se non li prende nelle regioni giuste quelle che producono più senatori perché hanno una popolazione maggiore al Senato non ha la maggioranza ed è quello che stava per succedere a Prodi che diciamo fece quel quasi pareggio nel 2006 ed ebbe due o tre voti in più al Senato grazie al voto estero che comunque non gli consentirono di governare tant'è che dopo un anno e mezzo di ricatti da parte dei piccoli partiti fu affossato da Mastella e da altri c'è addirittura la possibilità che stavolta al Senato la maggioranza non ci sia proprio nel caso in cui il centro-destra riesca ad avere un buon risultato in Lombardia in Campania e in Sicilia e infatti il PD e i suoi alleati stanno lavorando forse non so se Salusti ha delle informazioni migliori delle mie ma insomma pare che stiano lavorando alla Crementi o che abbiano già trovato la quadra per mettersi d'accordo sotto banco con Monti Casini e Fini per governare insieme dopo le elezioni e rieditare il Monti bis con l'attuale maggioranza senza il centro-destra per ottenere questo risultato chiedono a Ingroia la desistenza che sarebbe la desistenza più folle del mondo nel senso che tu dici mi allero con Monti dopo le elezioni per avere i voti per potermi alleare con Monti dopo le elezioni chiedo a Ingroia di non candidarsi praticamente nei collegi senatoriali così io prendo i voti mi alleo con Monti e Ingroia di do un calcio in culo e lo mando all'opposizione la domanda è ma perché se vogliono allearsi con Monti non chiedono la desistenza a Monti e la chiedono a Ingroia che non prendono proprio in considerazione come alleato è una questione curiosa che lascio alla vostra riflessione naturalmente io preferirei che se uno vuole allearsi con un altro lo dicesse ai suoi elettori prima dell'elezione affinché tutti gli elettori italiani giudichino se vogliono essere governati da un governo che avrà come maggioranza vendola socialisti di Nencini Bersani Monti Fini Casini e la sua famiglia o meglio le sue famiglie così la gente sceglie così la gente sceglie la democrazia è questa non si può dire noi siamo contro l'agenda Monti votateci perché se no vince Monti e poi dopo le elezioni allearsi con Monti credo che sia un segno di profonda inciviltà Alessandro Sallusti Travaglio ha cominciato anzitutto fra 5 minuti passiamo a raccogliere le domande quindi se ne avete di fresche oppure se ne avete nella vostra testa scrivetele che la raccogliamo Sallusti io credo sia interessante a questo punto anche per quanto ha preconizzato Travaglio cioè il rischio che il Parlamento e il Senato non ci siano maggioranze ci siano alleanze diciamo così spurie penso sia interessante richiamare quanto ha dichiarato ieri Monti a De Bortoli ovvero sia cito testuale ho apprezzato l'offerta che mi fece Berlusconi cioè di rappresentare i moderati italiani ma gli dissi subito che semmai all'Italia sarebbe occorso un federatore dei riformisti finora domiciliati in tre poli quindi Monti conserva l'ambizione di rappresentare i riformisti di questo paese e quindi scomporre l'offerta politica che abbiamo conosciuto in questi ultimi vent'anni probabilmente non ci riuscirà però Sallusti la domanda che vorrei rivolgere è questo paese forse ha una maggioranza di moderati che ha trovato in Silvio Berlusconi un federatore in questo ventennio e che continua a trovare almeno in una sua parte in Silvio Berlusconi un federatore i sondaggi comunque ci dicono diceva Travaglio aveva il 38 ora è il 20 ma comunque il 20% degli italiani continuano a votare Silvio Berlusconi o forse di più come leader politico del centro-destra quello che mi domando Silvio Berlusconi è un uomo anziano è un uomo che forse ha chiuso il suo ciclo politico forse no Travaglio diceva che l'ha visto in gran palla l'altra sera e tuttavia mi domando ma è possibile pensare a un centro-destra senza Silvio Berlusconi perché in queste settimane in questi mesi si ne è parlato moltissimo è possibile che l'offerta politica dal 94 a oggi sia sempre la stessa nel centro-destra che non dunque una piccolissima cosa su quello che diceva Travaglio è vero che anche Falcone come dire pensò andò anche a Roma fu costretto ad andare a Roma e fu sfiorato dall'idea di entrare in politica perché si sentiva delegittimato e attaccato in quanto magistrato ma forse a nessuno sfugge chi fu il primo ad attaccare e delegittimare Falcone come magistrato a Palermo e fu l'allora sindaco di Palermo Leo Luca Orlando che oggi ritroviamo alleato di Angoria cioè il mandante della delegittimazione di Falcone Leo Luca Orlando oggi è schierato con Ingoia questo per dire come strano il mondo come sono e come a volte vanno le cose con Ingoia Grazie a tutti.